Secondo voi, dobbiamo tornare a Sanremo insieme? Sì! E vai, Beppe! Ti ho fregato, Beppe! Ragazzi, se andiamo a Sanremo, stavolta il manchino se la prestate voi, perché il gasolio è crescivuto. Ma voi venite a Sanremo? Sì! Per alzata di mano, chi viene a Sanremo? Guardate che io vi guardo in faccia, se manca qualcuno poi vengo a prendere a casa. Un abbraccio a tutti! No, ma viviamo! Ciao! Perché Bruno non scherza, Bruno è uno che fa allenamenti, eh!